Un'idea innovativa, un'idea che probabilmente sconvolgerà tutta la città di Roseto degli Abruzzi è quella del Centro Commerciale Naturale. Sì, l'amministrazione sta valutando la possibilità di promuovere la costituzione di centri commerciali naturali a Roseto Centro e quindi è un modo per spingere le associazioni dei commercianti, sia di rilievo nazionale che locale, a costituire questi gruppi che comporteranno dei grandi vantaggi in termini di marketing territoriale e in termini chiaramente di tutela del commercio storico rosetano e del commercio cittadino. Quella è un po' l'area naturale per partire con l'identificazione di un primo centro commerciale di Roseto Capoluogo. Ora chiaramente il Comune si impegnerà nel proporre un protocollo d'intesa con le associazioni nel favorire azioni per far partire, per promuovere la costituzione di centri commerciali naturali e quindi fare azioni congiunte. Le forme chiaramente saranno analizzate da parte della maggioranza per partire con una modalità leggera come ad esempio un coordinamento oppure un tavolo permanente. Comunque fisseremo un po' il punto di partenza per questa importante azione a tutela del commercio cittadino che non deve essere lasciato da solo, deve essere comunque salvaguardato perché è fondamentale anche per lo sviluppo urbanistico di una città la presenza di un commercio cittadino tradizionale che è anche un presidio per la salvaguardia del territorio. I tempi per creare questo progetto? A breve noi proporremo un protocollo d'intesa, stiamo valutando come maggioranza sulla forma da proporre come ho detto prima per costituire un gruppo di lavoro a breve quindi sigleremo questo protocollo d'intesa che riguarderà un impegno alle prime azioni che vorranno servire per promuovere questo centro commercio naturale come la partecipazione a bandi, come una informazione sui siti e insomma si inizierà a partire questo marchio.